Un saluto ai telespettatori di Antenna Sud, a quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali, lo Ionio e l'Adriatico. L'intervista della settimana punta i riflettori su Taranto e sulla Prefettura e sul Prefetto Demetrio Martino. Bentornato ai nostri telespettatori, Prefetto. Sì, grazie. Questa è l'occasione di rivolgere a tutta la comunità tarantina i migliori auguri di innanzitutto salute, serenità e pace in vista della prossima festività natalizie. È un momento di intima riflessione ed è proprio per questa ragione che voglio augurare per il nuovo anno a questa città e ai suoi abitanti le migliori possibilità di ulteriore sviluppo e ulteriore crescita nel percorso che è già iniziato e che sta proseguendo del migliore dei modi. Come istituzioni non abbiamo in considerazione delle tante sfide che ci attendono il tempo di rivalutare quello che è stato fatto, che comunque è veramente tanto, perché dobbiamo invece tutti insieme profondere ogni sforzo per pianificare, programmare, realizzare il tanto che c'è ancora da fare, a vantaggio della comunità e del bene comune. Un pensiero particolare voglio rivolgere ai nostri giovani, ai ragazzi, proprio perché il momento della natività, per chi è credente, ma comunque questa festa deve riportarci ai valori autentici della nostra vita, della vita quotidiana e a loro chiedo appunto di riflettere sulla necessità di avere una maggiore consapevolezza sulle azioni che vengono compiute, sul modo di vivere anche giustamente la loro gioventù, che però deve incontrare il limite del rispetto verso le altre persone, verso le istituzioni, verso la città. Ecco, quindi va benissimo il divertimento, va benissimo ovviamente che si dia spazio alla vitalità dei nostri ragazzi, però con sempre rispetto verso gli altri e rispetto verso se stessi. Buon Natale a tutti. Ecco, il 7 gennaio del 2023 compirà tre anni della sua permanenza a Taranto, che idea si è fatta della Puglia e della Regione in particolare? Ricordo la prima impressione nell'arrivare a Taranto, mi ha colpito certamente la bellezza della città, nella straordinaria capacità di questa comunità di non solo essere resiliente, ma addirittura di crescere e di affermarsi sia nel panorama locale che in quello nazionale e devo dire che dopo tre anni io sento questa comunità ancora di più mia, veramente un percorso che ho avuto l'onore di seguire e in qualche modo per quanto mi è stato possibile anche di facilitare e veramente auguro il meglio per questa terra perché lo merita e per i suoi abitanti di una crescita civile e anche economica che veramente possa restituire il ruolo a Taranto così come è stato nell'antichità anche per il prossimo futuro. Ecco, ha colto dei segnali importanti sul piano della diversificazione produttiva del territorio, resta il nodo, ecco, il problema dei problemi, quello dell'ex Silva, ecco però pare che la città abbia, come dire, invertito la marcia. Ma indubbiamente so benissimo che è già stato pianificato un master plan sul futuro da qui a vent'anni della città che è una tappa importantissima all'interno della quale poi devono collocarsi i vari obiettivi intermedi, ma sono convinto che si riuscirà anche a Taranto a fare di questo progetto una vera azione di sistema alla quale devono partecipare tutti e tutti devono trovare spazio per contributi, idee e miglioramento della vita quotidiana e della capacità di questa città che già è accogliente di per sé per vocazione naturale, di essere ancora maggiormente vicina a coloro che vorranno venire a visitarla perché questo oltre a creare ovviamente un circuito produttivo molto importante consente anche una positiva contaminazione di idee, di tradizioni, di usi e di tante attività anche culturali che è veramente l'emblema di quello che era Taranto nella Magna Grecia che ovviamente è un percorso anche storico che va sempre riproposto. Ecco, il prefetto ha assistito in questi anni e soprattutto quest'anno al cambio in diverse postazioni delle forze armate e quindi parliamo della Guardia di Minanza, della Marina Militare, della Capitata di Porto e di altre forze armate. Una cosa che mi ha toccato veramente anche perché io non sapevo di cosa si trattasse, quindi quando mi è arrivata questa lettera con la ceralacca che sapeva di antico, ho scoperto questa cosa, è una cosa che mi ha toccato molto. Le lacrime tradiscono l'uomo dietro alla divisa con le stellette e questo è il ricordo più importante che conserverà di questi cinque anni a Taranto, il privilegio di aver stretto tra le mani il lelaccio di Gesù morto in processione per i misteri. Quella di oggi non è una giornata come le altre a Taranto che saluta un comandante illuminato, l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello che ha retto il comando interregionale marittimo sud della Marina Militare. Anni densi particolari che hanno regalato tante soddisfazioni in un legame ancora più stretto tra Taranto e la Marina, ma momenti anche molto difficili con la pandemia e tutto il supporto dei militari e i civili. L'ammiraglio Vitiello adesso si appresta al trasferimento a Napoli per comandare la logistica per la Marina, ma per Taranto assicura soltanto una rivederci. L'ammiraglio qui ha raggiunto il suo massimo grado in Marina, ma è andato ben oltre i suoi ruoli istituzionali, è scattato qualcosa quando è arrivato in questa città, che cosa se possiamo chiedergli? A me la città aveva già dato tanto prima, perché io qui ho svolto tutti i miei comandi, ho comandato la Fregata, l'Etna, mi ha dato una moglie, mia moglie è nata in Piazza Ibalia, mia figlia è nata al Santissimo Annunziato. Tornerà a Taranto? Taranto per me resta la mia base di riferimento, io ho una mia casa di proprietà. La cerimonia di avvicendamento nella piazza d'armi del Castello Aragonese alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina subentra nel ruolo l'ammiraglio di divisione. Fra più viaggi siamo i primi ad aver raccolto le sue impressioni a caldo. Questo legame così forte è per me un grosso stimolo a continuare sulla scia del mio predecessore. Arriva dall'Accademia Navale, come cambia anche il lavoro che svolgerà? Sono occupato per tre anni e mezzo di formazione, questo è un incarico più territoriale. Allora buon lavoro e anzi buon vento, grazie. Nella suggestiva cornice del Castello Aragonese di Taranto si è svolta la cerimonia di cambio di comando della Guardia Costiera Capitaneria di Porto della città ionica. Il comandante Diego Tomat ha ceduto il comando al Capitano di Vascello Rosario Omeo. Presente l'ammiraglio Flavio Biaggi, comandante del Comando Interregionale Marittimo Sud. C'erano le autorità locali ioniche. Anche l'ammiraglio Vincenzo Leone, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata. Il comandante Tomat ha fatto benissimo, sono certo che anche chi lo sostituirà fa l'altrettanto in un porto, in una città, in una terra che sprizza marittimità da tutti i pori. Mi spiace lasciare veramente questa splendida città dove c'è tutta una realtà in movimento per proiettarsi in un futuro sicuramente pieno di gioia e soddisfazioni. Quindi ringrazio tutta la città di Taranto, tutte le istituzioni locali, tutti i colleghi delle altre forze di polizia, di forza armata e ringrazio anche voi Stampa perché ci siete sempre stati vicini. Si parte dalla più proficua e secondo me stretta cooperazione interistituzionale. Questi territori sono territori che hanno criticità sistemica e che non possono essere affrontati in maniera singola da un singolo tutore di ordini e legalità. Serve la più grande coesione e di modo che i risultati che possano essere naturalmente da fuori dalle autorità siano risultati concreti. Con loro un rapporto sinergico importante? È stata una squadra eccezionale dal mio punto di osservazione, una grande coesione, un grande senso dello Stato ma soprattutto grande attenzione verso la società civile. Sono certo che anche quelli che hanno preso il vertice delle istituzioni militari e comunque di istituzioni importanti nell'ambito cittadino continueranno in questa azione sinergica perché, ripeto, lo chiede la società civile ma perché c'è una risposta corale veramente delle istituzioni che credo si possa considerare attestate a livelli di vera eccellenza. Con l'ultimo flash, capitolo bonifiche, un ruolo che lì svolge come commissario, a che punto siamo? Beh, veramente su questo fronte devo dire che ho avuto notevole difficoltà dal momento che la struttura di supporto in realtà si è costituita soltanto qualche decina di giorni fa. Però abbiamo ripreso le attività, ci stiamo muovendo sui fronti degli interventi, alcuni in corso, altri partiranno a breve soprattutto per quanto riguarda il Mar Piccolo e tutto questo ovviamente dobbiamo portarlo avanti tenendo presente del confronto che dobbiamo ancora completare con la gestione del CIS di cui spero a breve si possa avere una prima riunione con il nuovo corso, con il nuovo Ministro per il Sud e quindi dare poi via libera a quanto era già stato programmato in precedenza. Da uomo del Sud e da uomo adottato dalla Puglia il suo messaggio per il 2023 ai telespettatori di Antenna Sud, a tutta la comunità pugliese e lucana? Il messaggio migliore che si possa dare è quello di un augurio di salute, serenità, pace, di sano divertimento, di per quanto possibile spensieratezza a questo fine d'anno per poi ricaricare le batterie e partire di gran carriera ad affrontare le sfide del 2023 che saranno tante, però anche con molta speranza e molto ottimismo. Grazie, eccellenza.